e considera che per dire su 10 tentati ordini 2 comunque 2 3 magari li recuperi Benvenuto benvenuta in questo video oggi parliamo di email marketing automation con Clavio io sono Fabio Lacognata e sono e-commerce specialist per scuole e-commerce e imprenditore con la mia azienda bottegasicana.com un e-commerce di prodotti alimentari oggi ti voglio parlare di un argomento molto molto importante che mi sta molto a cuore e che è l'email marketing automation quindi cosa vuol dire fare in modo che le persone oltre a iscriversi alla tua newsletter riescono anche ad avere delle email in automatico in base a loro comportamenti ci sono tantissime possibilità perché si possono gestire in base a delle azioni specifiche che fanno le persone quello di cui parleremo oggi è andare ad individuare quali sono le migliori automazioni in modo tale che tu possa ottimizzare il tuo negozio al meglio e fare in modo che le persone ogni volta che fanno delle azioni tu possa in automatico mandargli delle comunicazioni personali e massimizzare i risultati. Andiamo a vedere di cosa si tratta tolgo il video così almeno puoi vedere tutto schermo allora quindi vediamo quali sono queste automazioni che io ho impostato diciamo nel mio e-commerce e che possono portare dei risultati interessanti allora la prima è una sequenza di welcome cioè di benvenuto cosa vuol dire una persona quando per dire si iscrive alla tua newsletter attraverso il pop-up o comunque attraverso diciamo una serie di attività che tu puoi impostare in caso diciamo più specifico e più utilizzato è sicuramente il pop-up che appare quando una persona naviga all'interno del tuo e-commerce praticamente questa sequenza è composta da 3 o 4 email dipende diciamo fin quando vuoi seguire l'utente che si è iscritto praticamente il cliente si registra solitamente per avere in cambio un coupon un coupon sconto da utilizzare sul tuo e-commerce quindi cosa succede? Che nel momento in cui lui appunto ti lascia l'email in automatico la sequenza ti manda la prima mail dopo un certo numero di giorni il sistema se non ha acquistato ti manda un'altra email dove gli dice appunto gli ricorda che ha un coupon a disposizione e man mano che questa sequenza scorre nel tempo praticamente cosa succede? Gli diamo delle informazioni specifiche sull'azienda in modo tale da educare il cliente a conoscerci meglio quindi a creare un rapporto che piano piano appunto può diventare sempre più interessante quindi nella prima email gli diamo il benvenuto gli diamo quello che gli abbiamo promesso quindi il coupon e gli diamo alcune indicazioni di base su come applicare e utilizzare il coupon nella seconda email invece possiamo iniziare a dare delle informazioni più specifiche gli possiamo dire oltre al coupon gli possiamo anche dare delle informazioni sull'azienda come per esempio se abbiamo avuto recensioni positive quindi fargli vedere che l'azienda è già riconosciuta e che è già posizionata e poi nella terza email possiamo comunque dargli per esempio una scadenza dicendogli che il coupon sta per scadere quindi lo devo utilizzare quindi questa potrebbe essere un esempio base di sequenza welcome quindi sequenza di benvenuto quando gli utenti si registrano a quel punto ovviamente si possono attivare altre sequenze interessanti come per esempio questa la seconda sequenza che quando una persona arriva sul sito inizia a fare delle attività quindi vede un prodotto fa qualcosa diciamo nello specifico e la persona è già iscritta quindi e quindi Clavio riconosce che la persona è un utente registrato praticamente dopo un certo numero di tempo gli manda un email dove gli dice guarda che hai visto questo prodotto magari potresti diciamo acquistarlo quindi dando delle indicazioni specifiche ovviamente bisogna essere sottili nella comunicazione ma questo è un altro discorso di cui non ne parliamo adesso quindi questa è la seconda automazione la terza è il carrello abbandonato quindi questa è un'altra automazione molto molto importante e si usa quando qualcuno sta per completare un acquisto e per qualche motivo l'utente comunque abbandona il carrello si dice così e quindi cosa succede per dire una persona magari sta completando un acquisto e viene distratto da qualcosa e quindi per dire non lo completa se noi gli mandiamo una serie di mail ben in sequenza quindi dando delle informazioni specifiche praticamente gli arriva un email collegata direttamente appunto con la piattaforma Shopify dove ci sono i prodotti che comunque ha aggiunto al carrello e gli dice l'email clicca qui e ritorna al tuo carrello in modo tale che tu possa completare l'acquisto questo è fondamentale perché comunque considera che circa dal 15 al 20% dei carrelli abbandonati per dire vengono recuperati e quindi considera che per dire su 10 tentati ordini 2 comunque 2-3 magari li recuperi e questo è sicuramente un aspetto molto importante e ti consiglio di attivarle prima possibile tra l'altro non ho fatto una premessa forse abbastanza ampia tutto questo lo facciamo con Cravio che è lo strumento, il software che utilizziamo e che si sposa benissimo con Shopify quindi attraverso delle integrazioni veramente semplici riusciamo a collegare, a fare delle azioni di qualità rendendo il tutto anche graficamente molto carino perché Cravio appunto prende dinamicamente le informazioni da Shopify e alcune appunto li prende in automatico come per esempio quindi prodotti che trovi nell'email del carrello abbandonato tutto questo ovviamente facilita tanto il lavoro poi si possono fare veramente tante cose questo noi lo spieghiamo ovviamente nel nostro corso specifico che riguarda un po' la gestione dell'e-commerce in generale ma anche della parte che riguarda l'email marketing e quindi insomma sicuramente è uno strumento molto interessante e potresti diciamo considerare l'ipotesi di utilizzarlo un'altra automazione sicuramente interessante è questa qua praticamente questa automazione riguarda quei utenti, quei clienti che hanno acquistato in passato ma non acquistano da un certo numero di giorni ora il numero di giorni non posso dartelo io adesso nel senso che dipende dalla tipologia di prodotto che vendi perché ci sono dei prodotti dove la frequenza di acquisto è più elevata per esempio se tu vendi prodotti per dire alimentari o magari cancelleria, prodotti di consumo sicuramente quando la persona l'acquista già da circa due mesi due mesi e mezzo dovresti iniziare a preoccuparti ok? puoi iniziare diciamo a pensare di mandare questo tipo di mail se invece per dire il tuo prodotto un prodotto magari non lo so una lavatrice per dire no? che solitamente sai che dura più di un anno allora non ha senso preoccuparsi di una mancata vendita di un cliente dopo circa tre mesi ok? quindi questo ovviamente lo devi impostare in base alle tue esigenze quindi questo appunto serve per recuperare i clienti che non acquistano da tanto tempo ok? questo è invece un'email che noi mandiamo a chi ha fatto un ordine quindi a prescindere se sia già cliente o no però se è cliente gli mandiamo un'email di un certo tipo se invece è il suo primo ordine ovviamente gliene mandiamo una diversa in ogni caso tutti i clienti che fanno un ordine da noi ricevono una email poi un'altra automazione interessante è la pulizia della lista cosa vuol dire? siccome per esempio in questo strumento che è Clavio si paga in base al numero di mail che tu hai all'interno della piattaforma sicuramente tenere troppo email all'interno non ha molto senso se per dire le persone non accedono mandi per dire la mail a tutta la lista e ti accorgi comunque che un certo numero di mail non vengono mai aperte allora ha senso fare pulizia della lista stessa quindi cosa si fa? a un certo punto sempre facendo ragionamenti in base alla tipologia di business e tutto quanto quando vedi che non c'è nessun interesse al tuo prodotto o comunque a quello che tu proponi allora mandi un flusso dove dici alle persone se vogliono comunque disiscriversi offrendo comunque prima ovviamente di chiedere di disiscriversi uno sconto ok uno sconto un po' più ampio rispetto a quello che offri in modo tale che gli dai come dire l'ultima possibilità o meglio ti dai anche tu l'ultima possibilità di recuperarlo quindi alla fine nel flusso tu gli dici intanto se visto che è da tanto che non acquiste tutto quanto magari potresti anche chiedergli se c'è stato qualche problema potrebbe essere una buona idea e comunque tu gli offri questo forte sconto se anche in questo caso dopo un flusso che potrebbe essere anche in questo caso di due o tre email la persona non ti dà nessun riscontro allora potresti pensare di cancellare l'email quindi a questo punto di fare spazio perché comunque avere delle email di persone che non ti considerano sicuramente non è utile quindi è inutile averle nel groppone quindi un'altra cosa l'ultima automazione di cui ti parlo e sono queste le automazioni base considera che noi utilizziamo questo strumento da alcuni mesi e queste sono le basi quelle basi che abbiamo impostato ne metteremo altre un po' più avanzate magari poi ne parleremo in un video successivo ad ogni modo questa è l'email per l'anniversario cioè in questo caso non abbiamo chiesto l'anniversario in merito alla data di compleanno perché si può chiedere anche la data di compleanno sicuramente è più impattante ma un'informazione un po' più difficile da reperire perché bisogna chiedere ovviamente la data di compleanno in questo caso noi abbiamo deciso di attivare questa sequenza che appunto festeggia l'anniversario dall'iscrizione alla newsletter ok comunque anche in questo caso si dà uno sconto per appunto festeggiare quindi in qualche modo è un'occasione da ricordare con l'utente che se l'email è scritta bene ovviamente gli farà piacere e magari utilizzerà quello sconto ok queste sono insomma le sette automazioni che noi gestiamo e a cosa servono servono sicuramente alcune di queste non tutte a intanto creare una targetizzazione quindi a segmentare il pubblico e mandare delle comunicazioni specifiche in base a una serie di fattori di cui abbiamo parlato sicuramente una cosa da evitare è quella di mandare newsletter la stessa a tutti quanti quindi oltre alle automazioni quando si lavorerà sulle campagne bisognerà anche in questo caso suddividere le campagne in base a delle attività specifiche che fanno i clienti attività o abitudini in base a delle azioni specifiche che fanno sul tuo sito che potrebbe essere comportamento che potrebbe essere acquisto di qualcosa di specifico in modo tale che appunto le mail che gli arrivano siano il meno invasive possibili perché comunque bisogna mandarle le mail per avere risultati e ottenere il migliore risultato possibile detto questo ti saluto se vuoi utilizzare Clavio qui nei commenti trovi il link per iscriverti e sicuramente farai una buonissima cosa perché è un servizio che funziona veramente bene se ti è piaciuto questo video mettici appunto il mi piace e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao